Lei ci ucciderà tutti. Perché me l'hai lasciato fare? Guardami. Concentrati sulla mia voce. Io con te non mi arrendo, Jin. Era mia amica. Sei la mia famiglia, Jin. Comunque sia. Basta! 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 Guarda. Tu sei speciale, Jin. E se smetti di combattere la forza dentro di te... ...se la accogli... ...avrai il potere stesso di un dio. Lei ci ucciderà tutti. Dimmi come la risolviamo, Charles! Dimmi cosa fare! Io non so cosa fare! Chi non capisce... ...ha paura. E chi ha paura... ...vole distruggere. È colpa tua, Charles. Ho cercato di proteggerla. Sono spaventata. Quando perdo il controllo... ...capitano cose brutte alle persone che amo. Lei morirà. È pur sempre Jin. Possiamo ancora aiutarla. A volte vuoi credere che le persone siano qualcosa che non sono. Ma quando ti rendi conto di chi sono... Jin! È troppo tardi. Arriba! Arriba! Ma quando ti rendi conto di chi, mi sono una tipa... ...dro tipo il sera! È un po' di neppe settare. Questa è un tipo di buys È un 15 mostrino... слadino...